Sono Natalino Affini e vi accolgo alla Rangonia Affini, concessionaria a veicoli commerciali Volkswagen. È la fase 2, che rispetto alla zero vuol dire capelli scompigliati e qualche problema in più, ma pronti a ripartire. Il nostro service è sempre rimasto aperto e ora abbiamo modelli nuovi, finanziamenti, promozioni, pronti a ripartire alla grande. Siamo mantovani, gente tosta, vi aspetto. Rangonia Affini, concessionaria a Volkswagen veicoli commerciali. Un gran bel moto di viaggiare.